Primo sopralluogo del consulente tecnico Giovanni Romanini venerdì mattina alle 10 all'azienda TCA di Castelluccio di Capolonna, la ditta specializzata in recupero di metalli preziosi, dove l'esplosione di un forno martedì scorso ha provocato il ferimento grave di due operai. L'ingegnere è stato incaricato dal procuratore della Repubblica di Arezzo Roberto Rossi e dal sostituto Andrea Claudiani di verificare lo stato di sicurezza per i lavoratori dell'azienda. Il consulente è arrivato in fabbrica per i rilievi accompagnato dagli ispettori dell'ASL. Romanini avrà 15 giorni di tempo per consegnare la perizia ai PM. Per lo scoppio sono indagate tre persone, il presidente del CDA, il responsabile della sicurezza e il caporeparto dell'azienda. Intanto restano stazionare le condizioni dei due operai ustionati ricoverati al centro specializzato di Cisanella Pisa. Giovedì sono stati sottoposti ad un intervento chirurgico per rimuovere i tessuti necrotizzati.